Assessore Terzi, torniamo a parlare di rifiuti, perché in pratica c'è ancora il rischio che rifiuti dalle altre regioni arrivino in Lombardia? Attualmente con l'attuale definizione contenuta dall'articolo 35 sì, devo dire però che quelli che sono i decreti attuativi del famoso articolo 35 dello Sblocca Italia sono stati abbastanza modificati sulla scorta di quelle che sono state le valutazioni di regione Lombardia. Questo però non ci convince a dare un parere positivo e soprattutto ad appoggiare questa scelta che noi riteniamo scelerata dal governo Renzi. La regione Lombardia nel tempo si è dotata di impianti di incenerimento, ha soprattutto sposato tutta la politica della raccolta differenziata, in particolare la raccolta differenziata spinta e non intende retrocedere su questa sua posizione. Abbiamo impugnato convintamente l'articolo 35 davanti alla Corte Costituzionale, non intendiamo muoverci di un passo rispetto a questa nostra posizione che è di forte contrarietà. Nonostante i passi avanti fatti, devo dire che non ci soddisfa per niente questo articolo 35 ed anzi l'idea o la possibilità che in regione Lombardia si smaltiscano i rifiuti di altre regioni proprio non è ammissibile, tant'è che abbiamo messo tutti i paletti che erano a nostra disposizione sul cammino di questa possibilità e soprattutto della realizzazione di questa possibilità che vogliamo scongiolare. Quindi chiederete questa abrogazione anche all'interno della conferenza Stato-Regioni che ci sarà domani 9 settembre? Domani c'è la riunione tecnica a cui seguirà quella politica e ribadiremo unitamente, devo dire, a tutte le altre regioni in unanimità del NOC.